mesi, Cree grazie al Prime, Creeco grazie ai due mesi, Junkox grazie ai due mesi, grazie mille dei sub ragazzi, spero di aver skippato nessuno Basta avere l'MMR e metto un sistema di punteggio che tiene conto in un'errette, il numero E ti piace più il dolce o il salato? Più poco il dolce, perché non c'è poco il dolce Grazie intanto a presti per i 44 mesi, ma non ti resti un batto tipo ieri l'altro Vabbè grazie mille, parte il game di prima? Bene, grazie mille caro, molto gentile Perché Conqueror non phase rush? Adesso vedrete, perché tanto ho capito che per vincere bisogna rimanere in vita Non è saltato, chi? Elia non t'ho visto Ma hai condiviso il sub, è partito l'alert Non te lo vedo il sub Gli attenditivi Beh è molto spaventato evidentemente Molto spaventato Press the attack, cloth armor, quattro puzze Non vedo ora di vedere l'utilità che darà nel corso della partita Comunque abbiamo Tryndamere Per provare a start RDE Per vedere se è più worth rispetto alla Q O forse sì Non ve lo so dire sinceramente Ultimi 40 minuti di turno Non ve lo so dire Meno male che ci sono i troll pick Beh la Grease go Ben tornato Turno di cosa? Di che lavoro se si può chiedere? Smurf? Ma di chi parlano? Forse Erelia? Oh speriamo Che cazzo Poi il game di prima Altro che Smurf Mi fregherai me la free win Nel attimo di prima Erano smurf dal bronze Esatto Comunque si stiamo facendo Un gare in un po' diverso stavolta Un gare in più bulky Buona sega a tutti qua Buona sega a tutti qua Buona sega a te caro Grazie mille del resav Tiriamo un colpetto a questo E un colpetto a questo Così Il danno del red buff Si sparge per bene Maxerola è ragazzi Così farmo molto meglio Facciamo power farming Garen Grazie Tsukumo Per i dieci mesi Bentornato Tsukumo Dove cazzo è il granchio Oh bastardo Però però tira lo Smurf Smurf Siamo sicuri Siamo sicuri che sia Smurf Oh top intanto fa la kill Il team con la clot armor Slurf Vabbè ha killato Dai ma stasera Cosa sta succedendo Alle partite Non è possibile Sti game sono un prank Comunque Sono un grandissimo Frank Oh dai C'abbiamo questo Sono appena spawnati Me li faccio Sono un grandissimo Frank Ste partite Non è possibile Cringe Sa cosa Vuole E cosa intende C'è tipo Udir che La uccide Usando il flash Boh È una bella domanda Chi lo sa Scalata fino a Che lelo Che non impazzisco Più o meno È rimasta Icon 0 HP Ma infatti Non lo so Ma forse sta aggiustando La wave Non ve lo so dire Può essere Può essere tutto Ma è buono che Quel coso Non interrompe Lady Garen Ho fatto un attimo Questo test Dovete avere pazienza Raga Devo farmare Il livello 6 Poi vedrete Che vedrete Rincompensati Verrete Ricompensati Ragazzi Paddix Rimarrà sempre Un segreto Mi porterò Nella tomba Oh Arrivato Babbo Natale Shit M'hanno visto No Non m'hanno visto Crisgo Cirdix Cento Controllo Che delle transazioni Vadano a buon fine Con Garan Di sottofondo Oddio Buono Il livello 6 Buono 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 Affamuk Meno male Che mi ha flashato Addosso Quella Ecco qua GG ragazzi Proprio flashata Nella mia Q Buono Crisgo Grazie Beats Bello Grazie Michele Per il prime Vabbè Scarpe ragazzi Manco a chiederlo Stavolta Purtroppo Allora Mi dispiace Non fare vedere I soliti gare Oh Tanto Qua purtroppo Missan le stats Non ci posso Affarmenti Io non è che Mi ricordo Tutte le volte Ehm Cosa dicevo Sì Mi piacerebbe Mentre fare Le robe Tipo Garin Letality Crit E quelle robe Lì Infatti Guardate che team Mi sto beccando contro Io cosa posso fare Con Garin Letality Contro Tarik Tryndamere Ci sono alcune cose Proprio Sono oltre il limite Ragazzi Non posso farle Già giocare Garin Giungla Siamo lì Lì Non è proprio Un pick Usuale Capisco che Non è Chissà quale Roba Però Non posso giocare Garin Crit Contro sti due Cioè Capite anche voi Proprio Inting Non in gold Ma in realtà Sì In gold Posso Dipende dal team Quello non è un team Contro il quale Posso giocare Garin Crit Ragazzi Fosse tipo Top per i cazzi Mi è un conto Ma se sono giungla Non posso neanche Guncare la botlane O non posso Non so Contestare un obiettivo Perché sono squish As fuck E loro hanno due mortalità Io capite che Non posso Dovrei reverlo in tempo Quindi In realtà In realtà è anche Ok Buono Nice Purtroppo C'è un dive In corso Ma Oddio Buono Anche Sfa Oh buono Demacciato Demacciato prepotentemente Comunque Questo è strabuono Comunque la demaccia di Garen è sempre troppo forte C'è niente da fare Andiamo a spendere soldi che dobbiamo andare top adesso Dobbiamo andare verso top Ci compriamo questo Questo e questo Via E voliamo Quindi insomma Devo fare dei game che sì Non sono Dei pick che sì Non sono Usuali Ma allo stesso tempo Che non siano delle merdate Purtroppo Trash se la cava Minchia Timo Comunque si farma troppo bene con le emaxate Io non gioco mai gare con le emaxate in giungla Però porca trova se si farma bene così Proprio non c'è paragone Non vi è paragone ragazzi Oh Arrivo Non ce la farà mai sto Udyr Proprio un pagliaccio Udyr sei una scimmia Sparisci Oh guarda Ah cazzo Però non c'ho lo smite Non so se è una buona call Vabbè ma verranno mai a contestarla Cazzo è morto il mid laner E ora potrebbero contestarla Eh ora non è buono in realtà Sto rischiando Ok Buono We did it Animo c'è la duro L'ho visto in tantissimi video Lo prendo Va bene ha flashato Uh rip bot Oh però uno per uno In uno v2 Rip Oh no non ti posso aiutare qua Non ti posso aiutare lì Sterile comunque non è smurfman nella vita Cioè proprio Non c'è pericolo che sia smurf Magari sa un po' fatto suo Però cioè non ha ancora itato un singolo stunda Quando l'ho guardata Magari sono io che porto sfighe Qua Cliccato a dovere Repunt Takes my juglo e Sono un bel herald qui Ok Che torna la bella testata Nice C'è qualcuno qui? Una guarda da togliere Doesn't matter when you're playing against pro Irelia Oddio Oddio Eh niente A leggere la chat succede questo My bad Non sto guardando Volevo ammirare Minchia Qui prende Oh Meno male Dai buono Colpa mia Non sto guardando Lo ameto Lo ameto Prerila morta So boring Bro Eee Non lo so Dobbiamo davvero commentare l'azione che abbiamo visto Ma quello glielo lasciamo ovviamente Potrei dare Non lo stanno facendo Ok Il rumeno Grazie rumeno del sub Raga Timo sta stravincendo in tutto ciò Cioè Non vorrei dire Timo sta stravincendo Io dico ok Io dico ok Andiamo di farci Questo No ma Trind l'avete visto Raga Eeeh Io comunque vado con questa build Nella speranza Andiamo però a portarlo fuori Animo C'è la duro L'ho visto in tantissimi video Fieric Fieric ma perché non usi mai lo slow su lei Quando usi nasus app No raga Sta bot qua bisogna lasciarla stare Comunque Non c'è niente da fare Non devo proprio guardarli E basta Cioè o li ammazziamo in fight Mezzi casini Oppure niente Quello lì Più che backliver Devo andare di Sapete di cosa Quindi non c'hanno la ulti Per me possono fare casini qua No Irelia Ok si moro Eh ce la fai Ah c'è ancora la ulti Quello Minchia Basta bottling Guarda Vanno ignorati E fine Devo farmi troppi oggetti Forse potevo schippare A blackliver Effettivamente Non è stata la migliore Delle call Lo ammetto Cioè di base è buono l'oggetto Anche perché con Garen L'ha procchi L'ha procchi con una facilità incredibile Quindi Tipo contro Udyr Lo massacro con l'ABC Però Effettivamente Non era il migliore degli oggetti Lo ammetto Ma quella torre penso Vada giù Non possiamo difendere All'infinito Chi ha una AFC No chi ha una E' qua Questi facciamo capire che non devono romperci le scatole Vabbè raga Timo è imbattibile Timo è MVP della partita Mani basse Timo li ha Abbattuto Ok che Timo lo counter Col potere del Bocelli Però che cazzo sto vedendo Timo ha fatto double kill su quelli Qualcuno fermi Timo Buono Bella azione Non so cosa dire Sì raga Irelia mi è stato stun sul grog Proprio non ce la può fare Irelia Non li può profitare gli stun Sono la sua Nemesi No no lasciamo qua Sloggiamo Si salvi chi può ragazzi Si salvi chi può E tanti saluti Oddio non è un buon engage Io non l'avrei fatto Fossi in te trash Oh 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 Preso Raga timo è assurdo Sto timo è assurdo Ma che cazzo E poi qui ragazzi C'è la playstation Webcam Merda È caduto tutto Guardalo Punto 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 C'è Trinda Non potrà mai battere Uno v1 C'ha la Q che dura Tre secondi Tre secondi di stun E ce l'ha dopo altre cinque C'è non Trinda non ce la potrà Mai fare Contro di lui Ma neanche in late Perché anche 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 in late Late C'è se non si fa la QSS Non può fare un cazzo Trinda deve fare la QSS Niente Non farà proprio un cazzo Vabbè Raga game vinto da Timo C'è proprio nulla da dire Io ho fatto il mio Ma Timo Un po' del dolce Perché il dolce è troppo dolce Stasera puntiamo a fare il Master Siognor Fieric Grazie Panino per i 20 mesi Certo Assolutamente Panino Grazie per i 20 mesi Bello Più 16 Ma che tristezza Grazie Dev per i 16 mesi Bentornato Eddie grazie ai 34 Rotolo igienico Grazie ai 5 Lo slow sull'E Quando usi il naso Sappia in che senso Lo slow sull'E Non ho capito Ma comunque no Ci sta Più 16 Meno 14 Ok Si stava incazzando come una maiala Qualcosa dice che se l'ha un po' presa per questa sconfitta Il nostro Udyr Il nostro Udyr Fa che Parole forti Vabbè Better jungler Vabbè ragazzi non so che dire C'è Timo troppo forte Timo troppo forte